Se voi non pensate che io ve lo sto dicendo perché sono un solito cantante che fa il giro dell'Italia e dice le stesse cose in ogni posto, io vi dirò che penso che lo possiate anche vedere, ci stiamo veramente divertendo e bello, questo concerto sta venendo bene, ci stiamo divertendo. Invito nuovamente tutti quelli che sono nell'area a parte ad ascoltare il concerto perché sono fortunati che questa sera i ragazzi con la maglia gialla hanno pensato di invitare i Velvet, ma a parte queste minchiate, mi piace dire ovunque, mi raccomando partecipate a questa serata perché è importante, lo sapete meglio di me, io sono un ospite qua, però qui dentro nella band dei Velvet sappiate che siamo stati toccati tutti quanti da queste cose di cui stiamo parlando, sia personalmente che proprio con questa merda di malattia, per cui sappiamo bene quanto è importante assistere le persone che stanno male, fare qualcosa per chi si ammalerà perché purtroppo ci sarà sempre qualcun altro che si ammalerà, per cui noi siamo qua questa sera in via particolare perché vogliamo cercare di partecipare anche al di là dell'aspetto artistico, il nostro merchandising, le nostre magliette, i cd, i libri, le cose che vendiamo normalmente ad ogni concerto questa sera sono per la festa, quindi se... è uguale, potete comprare 20 birre, 2 birre oppure un cd, però insomma avete una chance, se volete comprare un cd sappiate che anche i soldi di quel cd saranno per un buon fine, detto questo, torniamo su una roba meno pesante, diciamo. è uguale, 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 è E non mi fa esplorso, eliminare le occhiaie Manco di concentrazione, non ho volontà Non ho potere, non ho potere Non ho potere, non ho potere Sono stacco fuori in forma Sono in una poi, ben, sono in una poi, ben Mi mangio sento dentro me Sofro lo stress, io sofro lo stress Faccio un passo, ero il mio amore Sono in una poi, ben, sono in una poi, ben Si deve essere dentro me Negativi di me, sta Io riprendo il mio colloquie E dove curarmi un po', modellare il difeso, eliminare le occhiaie, un manco di concentrazione, che la povertà su stessa di riso, sono stress, io sopro lo stress, sono stress per fuori e fuori, sono in una poi ben, suono in una roba, si deve essere il vero e, io sopro lo stress, io sopro lo stress, faccio un passo ed ho il piattone, suono le lupità, nel modello, nel manco del senso del piattone, io sopro lo stress, io sopro lo stress, sono stress per fuori e fuori e fuori e fuori e fuori, sono in una poi ben, suono in una roba, si deve essere il vero e, Com'è? Ho! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.